Michele Fedrizi Siamo all'inizio e dobbiamo pagare anche questo fatto di poca concentrazione Prossimi match sempre contro squadre di alto calibro Alla luce di quello che si è visto oggi contro una squadra contro Perugia Cos'è che secondo te bisogna fare per magari riuscire a trovare quei punti importanti? Sicuramente riuscire a replicare ciò che abbiamo fatto nel primo set Cioè battere bene e limitare un po' gli errori Cosa che ci ha compromesso il terzo e quarto set Grazie bocca al lupo Grazie